Chi, meglio di Dino Gianrusso, può aiutarci in questo? Perché un dato di fatto è certo, quota 100 lo sapevamo fin da quanto fu varata che scadeva nel 2022. Possiamo accusare Draghi di non averci messo mano per tempo, però il precedente Presidente del Consiglio aveva tutto il tempo di impostare una riforma delle pensioni e come si è pentito di certe misure, penso in primis al decreto sicurezza, forse si poteva mettere mano alle pensioni prima, anche per rispetto di coloro che hanno aspettative di pensionamento rapido. Lei che dice? No, io penso che il Presidente Conte ha fatto tante cose buone e oggi parliamo di soldi da utilizzare, tra l'altro in tempi rapidi, cosa che l'Italia raramente ha fatto, dell'Europa ottenuti da Conte. Quota 100 è stato utile per accelerare alcune situazioni di pensionamento che effettivamente un po' anche per riforme precedenti non proprio felici restavano un po' a metà. Dopodiché c'è un dato che né Conte né Draghi né nessun altro può controbattere. In Italia si aumenta l'età media e purtroppo, disgraziatamente, negli anni 80, 90, eccetera, abbiamo fatto andare in pensione persone che avevano 39 anni, 40 anni. Oggi molti non iniziano ad avere un lavoro stabile prima dei 40 anni. Questo, come sa bene il mio amico Roberto Arditti, è uno dei motivi per cui l'Inps ha problemi di bilancio enormi. L'età media si è allungata, l'età di inizio lavoro, soprattutto di lavori stabili che quindi danno un gettito importante all'Inps è sempre più alta e la precarietà significa anche meno contributi versati all'Inps. C'è un sistema che nessuno negli ultimi 20 anni, non negli ultimi 12 mesi... Ma lei rivendica Gianruzzo il fatto che, al di là di quello che è successo negli anni passati, il governo Rumor addirittura consentì di andare in pensione coloro che avevano lavorato soltanto 15 anni, di mandare in pensione a 62 anni solo una determinata classe anagrafica, quella che è nata tra il 1957 e il 1959. È una questione di gradualità e comunque è quel genere di riforme che dove tocchi tocchi scontenti qualcuno. Questa cosa la dobbiamo dire con molta chiarezza. Credo che un grande errore sia stata la riforma Fornero perché si è dimenticata dei cosiddetti esodati. Quello è stato un errore grave nei confronti di alcune centinaia di migliaia di cittadini italiani, per cui non bisogna mai più ripetere quegli errori. Però non si può pensare che ci sia una riforma delle pensioni che mette d'accordo tutti i conti dell'Inps senza scontentare nessuno. Semplicemente dobbiamo fare i conti con la realtà impossibile. Chiudo con una cosa però importantissima da un punto di vista politico. Avete aperto questa prima parte con Draghi scocciato. Anch'io ieri avevo letto su Dago Spia, oggi su altri quotidiani. E Roberto Arditti ha detto che viene a mancare il dogma dell'infallibilità di Draghi. Ecco, io credo che su questo dobbiamo ragionare. Che purtroppo si è raccontato di questa persona importante, ex banchiere, stimato in Europa per carità importante, come di un demiurgo con il dogma dell'infallibilità che ce l'ha soltanto il Papa per i cristiani. È una battuta, quella che ho sentito, ma non è una battuta sbagliata. Perché poi la realtà non fa sconti a nessuno. E la realtà italiana è molto complessa, è molto intricata. Oggi più che mai in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Anche la realtà dei partiti è molto complicata. Forse tra le difficoltà di Draghi sono rappresentate anche dai partiti. Saluto e ringrazio.